Ben da tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Siamo qui oggi col classico appuntamento che torna dopo la sosta del format Cosa Aspettarci. In questo caso dalla decima giornata di Serie B, Serie B che ritorna dopo la sosta nazionale, Serie B che tornerà anche più nelle prossime settimane. Vedremo la classifica, che tipo di cambiamenti potrà subire già grazie alla decima giornata. E per l'appunto mi aspettano una giornata con risultati importanti, con piazze che si devono confermare, con squadre che si devono confermare, con squadre che cercheranno una sorta di rinascita dopo questa sosta da iniziare magari un tipo di cambiamento diverso da quello che hanno fatto fino alla nona giornata. Mi raccomando però, prima di partire col video vi devo chiedere un pollice su qua sotto, 30, 40, 50 invece per supportare i miei contenuti, un'iscrizione al canale totalmente gratuita ragazzi, mi raccomando iscrivetevi, non mi costa nulla e noi partiamo subito. Partiamo da Parma-Como, match che anticipa tutti gli altri perché si gioca venerdì ore 20 e 30, è una gara di vitale importanza per entrambe le squadre perché entrambe arrivano da una sconfitta, l'ultima gara per l'appunto prima della sosta, il Parma aveva perso col Venezia, il Como ragazzi aveva perso con la Cremonese, quindi per entrambe è un match per cercare di tornare alla vittoria, due squadre che comunque hanno avuto un ottimo inizio di campionato, il Como è quinto ha quota 14 punti, ha meno 5 punti e dal secondo posto, occupato dal Palermo ha quota 19, entrambe però hanno 8 partite giocate, il Parma ragazzi è capolista, ha quota 20 punti in 9 partite giocate. Chi vince, riprende, chi vince ritornerà a fare 3 punti, chi perde potrebbe magari iniziare ad esserci qualche minimo campanile di allarme perché potrebbe essere la seconda sconfitta consecutiva, mi aspetto una partita molto tattica, mi aspetto due squadre che magari preferiranno non prendere gol rispetto a farlo, ma mi aspetto comunque una gara dall'alto valore tecnico. Andiamo avanti con Bari Modena, salvatore 14, gara molto importante per entrambe perché entrambe hanno bisogno di 3 punti, il Modena ragazzi non vince da 5 partite con 3 pareggi, 2 sconfitte nelle ultime 5, però 2 sconfitte sono arrivate entrambe consecutivamente e quindi per il Modena è già un esame importante. Vincere a Bari per il Modena vorrebbe dire fare uno step di maturità importante e soprattutto mandare via qualche brutto pensiero negativo che si può essere creato in queste settimane di sosta visto i precedenti risultati. Per il Bari è un nuovo inizio, targato Pasquale Marino che inizia la sua avventura col Bari, lo farà davanti ai propri tifosi, davanti a San Nicola, comunque gremito di persone, con magari un entusiasmo che si può rinnovare con questo nuovo tecnico. Vediamo quello che ha da dire Pasquale Marino a questo campionato che deve dare una scossa subito importante all'ambiente perché il Bari ha bisogno dei 3 punti, ha bisogno di rialzarsi e non sarebbe ammissibile, secondo me, una sconfitta all'esordio casalingo per Pasquale Marino e per la piazza Bari. Andiamo avanti con Cremonese su Tirol, salvatore 14, gara importantissima per capire dove può arrivare questa Cremonese che affronta una squadra matura, una squadra forte, una squadra che va alla ricerca del risultato dopo due sconfitte consecutive negli ultimi due punti che ha raccolto 10 punti in 8 partite. Quindi questo per la Cremonese può essere già un bel test di maturità perché ha bisogno dei 3 punti la Cremonese di Giovanni Stroop per continuare, ragazzi, il suo percorso di crescita intrapreso con la scelta del tecnico molto capace in Serie B di fare grandi risultati. Andiamo avanti con Pisa-Cittadella, ore 14, sempre sabato 21, gara molto importante per il Cittadella per capire se può veramente sognare qualcosa di più grande visto l'ottimo inizio di campionato fatto di 13 punti in 9 partite contro vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte, altrettanto importante la gara per il Pisa che giocare in casa perché deve tornare alla vittoria perché non lo fa da più di 3 partite e sicuramente questo è un aspetto che turba anche la testa dei giocatori e dello stesso tecnico Aquilani che davanti ai propri tifoggi vuole regalare una prestazione importante e soprattutto 3 punti che porterebbe il Pisa a quota 12 e magari lo rilancierebbe anche verso zone più alte di classifica. Andiamo avanti con l'Ecco Ascoli, sempre sabato 21, ore 14, gara determinante per me, per l'Ecco, capiremo se l'Ecco da questa gara ha qualche possibilità di rialzarsi da questo ultimo posto con un solo punto fatto in 6 partite, un pareggio, 5 sconfitte, 5 gol fatti solo, 13 gol subiti. Una delle peggiori difese è la squadra dell'ex tecnico Luciano Foschi, oggi del neotecnico Buonazzoli se non sbaglio, si chiama, scelta interna quale la società per il cambio tecnico, invece per l'Ecco è una grande occasione per ritornare alla vittoria, allungare la striscia positiva fatta di 3 pareggi e una vittoria con un'altra vittoria e rilanciarsi in classifica per la squadra guidata da William Vialli che ha avuto un inizio un po' complicato ma che deve assolutamente cercare di arrivare il prima possibile alla quota salvezza. Andiamo avanti con Ternana Brescia, altra gara ragazzi molto bella perché Ternana comunque è una squadra che gioca a calcio nonostante la classifica dice che abbia solo 6 punti, 9 partite ma sul campo secondo me qualche punticino in più l'avrebbe meritato occhio perché di fronte avrà una squadra matura una squadra che prende pochi gol, ovvero il Brescia di Gastaldello che ha fatto 10 punti in 6 partite, viene da 4 pareggi consecutivi nelle ultime 4, vuole vincere in trasferta, vuole fare risultato in trasferta sarà una bella gara, per me sarà una gara che si può già un po' descrivere la Ternana farà la partita e Brescia pronto a ripartire e sfruttare gli errori eventuali errori in impostazione da parte della squadra di Nucarelli andiamo avanti con Catanzaro Faralpi Salò, sabato ore 16.15 gara molto importante, anche questa ragazzi è una valenza importante soprattutto per il Catanzaro perché potrebbe magari prendere in leggero sotto gamba questo match visto che la Faralpi non vive un bel momento fatto di 5 punti soli in 9 partite, chiamata a fare punti anche in trasferta la squadra di Stefano Vecchie e questo però appunto per il Catanzaro è un match che può dire tantissimo perché 3 punti possono essere scontati ma in serie B niente scontato puoi vincere o perdere contro chiunque quindi Catanzaro al ceravolo davanti al proprio pubblico deve fare il massimo, fare la migliore prestazione possibile e vincere per sognare un'eventuale promozione diretta magari a fine campionato e per il Catanzaro se vince andrebbe a quota 21 punti, sarebbe un inizio straordinario sarebbe eventualmente la sesta vittoria in 10 gare giocando la decima contro la Faralpi Salò, Sampdoria, Cosenza, domenica ore 16.15 e qui per la Samp può essere già un bivio perché vincere vuol dire che ti farebbe allontanare magari anche solo per una settimana le paure di non aver mai riuscito di non vincere mai in casa e le paure comunque che non vince dalla prima giornata la Samp e quindi una vittoria potrebbe sicuramente aiutare a lavorare meglio tutta la squadra e sicuramente metterebbe anche Pirlo magari di fronte a una settimana un po' più tranquilla rispetto alle ultime settimane che sta passando il neotecnico della Samp però di fronte alla Samp ragazzi avrà una squadra che gioca a calcio che ha un'identità molto forte ovvero il Cosenza di Fabio Caserta squadra che può fare risultato su qualsiasi campo squadra che gioca la partita in qualsiasi campo per l'appunto ha la sua identità, sa cosa deve fare in campo è l'unica squadra che è riuscita fino a questo momento a vincere a Palermo contro il Rosa Nero di Eugenio Corini che sono secondi, ho quotato a 19 punti e quindi un Cosenza che mi aspetto che voglia fare tantissimo voglia stupire e vincere anche al Ferraris ma per la Samp è una partita di vitale importanza vincere questa partita per la Samp vorrebbe dire tantissimo sia in ottica classifica sia in ottica soprattutto mentale per aiutare la squadra a lavorare meglio proseguiamo con Reggiana Venezia domenica ore 18.30 gara molto importante per il Venezia perché per me avrà una trasferta molto difficile ma paese di un controllo Reggiana che comunque è un tifo caldo che comunque in casa deve costruirsi un suo percorso che porterà poi eventualmente una salvezza a fine anno ed è per questo che può essere una gara molto molto difficile per il Venezia di Vanoli vincere questa gara contro questi tipi di avversari fuori casa può voler dare un segnale importante al campionato la squadra di Vanoli che vuole comunque riconfermarsi dopo le ottime due vittorie consecutive arrivate negli ultimi due giorni e soprattutto dopo l'ultima vittoria quella pre-sosta contro il Parma per 3 a 2 chiudiamo il video con Palermo-Spezia ultimo match da commentare che si giocherà lunedì ore 20.30 per il Palermo una gara fondamentale da vincere se vuole rimanere attaccato al secondo posto se vuole sognare anche nell'eventuale primo posto dove si può vincere il recupero e che si giocherà più avanti visto che il Palermo ha una gara in meno rispetto a Parma e Venezia e Catanzaro e quindi per i risoneri in casa è una partita da vincere assolutamente per riconfermarsi e per dare un grande segnale al campionato dicendo che il Palermo è una se no la squadra più forte di questa Serie B di fronte però avrà una spezia determinata a fare risultato e deve fare risultato anche a Palermo se vuole tirarsi fuori da questa brutta sezione di classifica che lo vede sedicesimo a quota 6 punti dopo 8 partite e ricordando sempre che Alvini traballa molto la sua panchina fatemi sapere la vostra qui sotto con un commento pollice nel suo video iscrizione al canale noi ci becchiamo al prossimo video bella ragazzi grazie a tutti grazie a tutti